Sì, però la cadenza non è buona, non è del riunito. Sì, però la cadenza non è buona. 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 Non è buona. Non è buona. La cadenza 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 non è buona. te la cadenza non è buona. la cadenza non è buona. Giudischweiz, Hans-Peter Sommer. Siamo in la testa del 2 Spera Ponys, un'internationalo fatturno per l'Almthaler Ride-on-Farrverein. Siamo in la testa del 2 Spera Ponys, un'internationalo fatturno per l'Almthaler Ride-on-Farrverein.